Chissà se la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Real Bat avrà eliminato le scorie e le polemiche del primo stop casalingo, condito da tre espulsioni, rimediato domenica scorsa contro il Biceglie. Quel che è certo è che il Bitonto, capolista del girone A di promozione pugliese, falcidiato dalle squalifiche di San Girardi, Modesto e Rosselli, proverà a ruggire nel match che vedrà impegnati Leoncelli in trasferta contro il fanalino Nuova Andria. In seconda posizione lo Sporting Altamura, sconfitto 2-1 a Otranto nella semifinale di andata di Coppa Italia promozione Puglia, dopo aver rossicchiato tre punti alla battistrada, cercherà almeno di non perdere terreno nella sfida interna al Gargano Calcio. In zona play-off, interessante testa-coda, fra il Cellammare, terzo a quota 44, e la Virtus Bitrito, sempre più assetata di punti salvezza. Nelle zone alte, fari puntati anche sul derby tra Real Bat e Canosa, mentre l'atletico Corato, quinta forza del torneo, non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi in trasferta della Nuova Lucera Calcio, ultima con appena 7 punti. Appena più indietro rispetto alla fascia promozione, il Real Modugno chiede strada al giovinazzo per risalire posizioni ed entrare nella top 5. Da seguire però c'è anche Monte Sant'Angelo, rinascita rutiglianese. I Foggiani, mina vagante del torneo e con ben tre match ancora da recuperare, puntano dritti alla vittoria per ritornare a respirare aria ad alta quota. Chiudono la giornata Unione Calcio-Bisceglie-Celle di San Vito e Carapelle-Forti-Smurgia. Il fischio d'inizio su tutti i campi alle 15.